Oggi via Lorenzo il Magnifico a Poggia Caiano è stata riaperta al traffico. Il polo museale ha comunicato al comune che i lavori di messa in sicurezza, avviati all'indomani del crollo del muro della Villa Medici, avvenuto il 6 marzo, sono stati completati nella giornata di ieri. Sarà possibile parcheggiare prima e dopo l'area di cantiere, lungo il lato dei negozi in via Lorenzo il Magnifico, mentre resta il divieto di sosta sotto il muro che corre lungo via Cancellieri. Per venire incontro alle esigenze dei commercianti e dei residenti, l'area davanti alle scuderie Medici e lato ponte a Molino sarà attrezzata a parcheggio. Durante la presentazione dell'intervento di messa in sicurezza della cinta muraria, stamani è emerso un aspetto inquietante che potrebbe avere delle connessioni idrauliche con il crollo della porzione su via Lorenzo il Magnifico. Dalle mura, infatti, sono state rimosse tutte le parti pericolanti di intonaco, ma i tecnici del polo museale hanno spiegato che tale intonaco non faceva passare l'acqua. Agli atti, almeno negli ultimi decenni, non risulta alcuna autorizzazione dell'intervento che potrebbe aver compromesso il sistema idraulico del giardino della Villa Medicea sovrastante la cinta muraria in questione. L'acqua non riuscendo a uscire potrebbe aver indebolito il muro fino a farlo crollare, ipotesi su cui farà i dovuti accertamenti l'ingegnere idraulico incaricato dalla Procura che indaga per crollo colposo per ora contro i gnoti. Ricordo che la villa ha una storia molto complessa, è stata acquistata, dopo essere stata anche di proprietà dell'associazione Reduci di Guerra, quindi ha vicende molto lunghe e gli interventi vanno molto indietro nel tempo. Il polo museale ne è consapevole dal 2015 e basta perché precedentemente il polo non esisteva. La fine del lavoro di messa in sicurezza, costati circa 50.000 euro, apre ora la fase più delicata e più lunga, quella della ricostruzione. Sono certo che il Ministero sarà attento all'esigenza di una villa patrimonio dell'UNESCO come quella di Coggia Caiano che ha necessità non solo di ricostruire i muri perimetrali ma anche alcuni interventi strutturali all'esterno della villa stessa come ad esempio il portico, come ad esempio altre zone sul retro della villa.